Buongiorno da Carla Clua con le previsioni del tempo di Arpal. Oggi giovedì cielo nuvoloso con possibili rovesci o temporali su centrolevante. Venerdì nuvolosità dal mattino e schiarite nel pomeriggio con possibili rovesci sui rilievi. I fenomeni si materrano fino a sabato. Ecco il dettaglio. Oggi giovedì primo giugno cielo irregolarmente nuvoloso, sviluppo di nuvolosità accumuliforme nelle zone interne. Possibili rovesci o temporali anche di forte intensità nelle zone interne di centrolevante con possibile interessamento della zona costiera. Venti deboli di direzione variabile in prevalenza meridionali sulla costa. Mare poco mosso quasi calmo a levante. Temperature massime in aumento sulla costa tra 25 e 28 gradi nelle zone interne tra 23 e 26 gradi. Domani venerdì 2 giugno giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare al mattino soprattutto su centro ponente. Successive ampie schiarite con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili rovesci temporali e evoluzione diurna sui rilievi. Possibili foschie la sera a ponente. Venti deboli meridionali rinforzi fino a moderati su centro ponente. Mare poco mosso quasi calmo su centro levante fino al primo pomeriggio. Temperature stazionarie minime lungo la costa tra 18 e 20 gradi nelle zone interne tra 10 e 14 gradi. Massime stazionarie sulla costa tra 25 e 27 gradi nelle zone interne tra 22 e 27 gradi. Dopodomani sabato 3 giugno giornata generalmente soleggiata. Possibili rovesci e temporali a evoluzione diurna nelle zone interne di centro levante. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso quasi calmo. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 19 e 21 gradi nelle zone interne tra 11 e 13 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 25 e 27 gradi nelle zone interne tra 22 e 26 gradi. È tutto. Seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.liguria.it, sui nostri social, sul canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!